La sicurezza sul lavoro al centro delle attività nelle aziende di qualsiasi settore è il pensiero di Confindustria Pesaro Urbino che questa mattina con una conferenza stampa ha presentato l'accordo siglato tra Assindustria Consulting e Risk Solution, una struttura sanitaria privata di Fano specializzata esclusivamente in medicina del lavoro. È importante la promozione della salute a 360 gradi, secondo me. Oggi gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali rappresentano una tragica realtà, dunque è necessario intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza e la salute di ogni lavoratore. Da qui nasce l'accordo per offrire un contributo culturale e concreto alla prevenzione degli infortuni, in particolare attraverso il ruolo della medicina del lavoro. La prevenzione è che deve essere un principio cardine non solo per il datore di lavoro, ma anche per il lavoratore, cioè il lavoratore deve essere formato perché deve essere consapevole dei rischi che corrono all'espletamento della propria attività lavorativa, che a volte incidenti sono anche per atteggiamenti imprudenti del lavoratore, proprio perché non è stato formato in modo, diciamo, precipuo sui rischi in cui incorreva. I nuovi servizi contribuiranno ad integrare quanto già offerto da Assindustria Consulting in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori. Le aziende potranno contare su condizioni economiche vantaggiose che riguarderanno la selezione di un medico competente e adeguato alle peculiarità di ciascuna attività aziendale. Abbiamo creato una sorta di convenzione organizzata, selezionando un certo numero di medici, anche giovani, che hanno sposato una linea operativa di prevenzione e di introduzione della cultura della salute nei luoghi di lavoro. Tutto questo sarà coadjuvato anche da una struttura di digitalizzazione delle cartelle cliniche in maniera da creare al medico del lavoro che va in azienda un contesto organizzato, con una linea guida operativa. L'imprenditore quindi si può tranquillamente affidare a questo protocollo sapendo che ha un medico che segue una sorta di, chiamiamolo disciplinare a livello locale e questo dovrebbe garantire un contesto molto importante anche per tutta una serie di dati e di informazioni che verranno fuori e che ci serviranno appunto per fare più prevenzione.